Benvenuti a Cannole, la città delle lumache, è il simpatico cartello che accoglie i visitatori nella cittadina a 10 km da Otranto e a 100 metri sul livello del mare. In greco il suo nome originario era Kalami, cioè Canne, in riferimento alla presenza di canneti nel suo territorio. Cannole nacque molto probabilmente nel XII secolo, a seguito delle furibonde lotte tra bizantini, germanici, normanni e baronato dell'Italia meridionale. In un clima feroce e senza fine, che iniziava a coinvolgere tutto il sul Salento, gli abitanti di queste terre fuggirono alla devastazione di Guglielmo I di Sicilia, detto il Malo, trovando rifugio sicuro tra i fittissimi canneti. Cannole è molto conosciuta per la tradizionale festa della municeda. Essa è la più importante sagra d'Italia dedicata alle lumache nella tradizione gastronomica mediterranea, tanto che i cannolesi vengono soprannominati Cuzzari. Il centro storico di Cannole, con il suo reticolo di piccoli e stradine, rappresenta uno dei luoghi più suggestivi del paese. Qui sono ubicati alcuni beni che rappresentano la testimonianza delle epoche passate. Nei pressi dell'attuale municipio vi è l'antica cisterna cananea. Un tempo fonte di approvvigionamento idrico delle popolazioni locali e utilizzata per la raccolta delle acque piovane, l'antico pozzo comunale prende il nome da un toponimo ebraico, cananea, che significa ebrei provenienti dalla terra di Canaan. Nella centralissima piazza San Vincenzo Ferreri vi è un grande portico, denominato seggio oppure sedile, risalente al XVIII secolo. L'antica struttura fu utilizzata in passato come luogo di assemblea per pubblici parlamenti, dove si prendevano decisioni di interesse collettivo. Esso era anche un luogo di giustizia e inoltre vi venivano affissi documenti e informative di interesse pubblico. A pochi metri dalla piazza vi è il palazzo municipale. Esso venne costruito negli anni settanta dell'ottocento al di sopra di una residenza signorile del Settecento, appartenuta alla nobile famiglia Fiore di Muro. Sul margine sinistro della struttura si conserva la statua in pietra di San Vito, unica testimonianza sopravvissuta di un'antica cappella dedicata al santo. In un altro angolo della piazza centrale vi sono eruderi di quella che un tempo era porta San Biagio. Realizzata nella prima metà del Cinquecento, la porta rappresentava l'accesso all'antico borgo medievale di Cannoda. L'antico maniero fu un tempo una solida costruzione con compiti di vedetta difensiva di tipo militare. Il suo scopo era difendere la popolazione locale dal pericolo di incursioni nemiche spesso provenienti dal vicino mare. La sua datazione è presumibilmente risalente al XVI secolo, anche se si suppone essere stato costruito sulle rovine di un precedente maniero militare risalente al XV secolo. Esso venne realizzato dagli Orsini del Balzo, una potente e ricca famiglia di feudatari terrieri presenti nel Salento. L'antico castello subì delle notevoli modifiche che ne trasformarono definitivamente il suo aspetto originario. Fu sotto la proprietà dei personè che il castello iniziò la sua lenta trasformazione gentilizia e assunse le sue attuali connotazioni grazie all'intervento diretto dei Granafei che nel 1747 acquisirono il feudo di Cannule. Entrando nello splendido cortile, il visitatore è subito rapito dalla bellezza della struttura. Qui è presente la vera di un pozzo ancora perfettamente conservato che riporta la data del 1752, anno della sua realizzazione. Più di tutto è il giardino che colpisce l'attenzione e rappresenta il punto più alto di ingentilimento di quel che fu l'antico maniero di Cannule. Esso è ampio e ben conservato e al centro vi è il fiore all'occhiello dell'intero cortile, una splendida fontana in stile tardo settecentesco sul cui troneggia lo stemma nobiliare della famiglia Granafei. Testimonianza tangibile della tradizione contadina cannolese è il Museo dell'arte olearia. Inaugurato dalla Proloquo il 5 maggio 2012 dopo un attento restauro, il museo sorge in un antico frantoio fortemente voluto e realizzato dalla famiglia Piccino intorno alla metà dell'Ottocento per poi essere ceduto alla famiglia del Cavaliere Ubaldo Villani. Visitando il museo ci si imbatte in due differenti sistemi produttivi perfettamente riprodotti. Quello più antico a trazione manuale animale e quello moderno di tipo meccanico elettrico. Vi è una sezione del museo dedicata agli antichi strumenti di lavoro. Essi, donati dai cittadini cannolesi, sono esposti in una stanza adibita allo scopo. Inoltre, una piccola sezione archeologica del museo è dedicata ai reperti recuperati nel territorio di Cannole e accuratamente catalogati ed esposti al pubblico. La cappella fu edificata nel 1936 su una persistente cappella rupestre di piccole dimensioni. All'interno è presente un semplice altare sovrastato da una moderna immagine della Madonna col bambino. La cosa più suggestiva di tutta la cappella è una teca contenente una statua in cartapesta della Vergine con un turco incatenato ai suoi piedi. I cannolesi vengono anche soprannominati turchi per via di un episodio di fede molto importante. Si racconta che durante l'assedio di Otranto i cittadini chiesero l'intercessione della Madonna che intervenne aspettando alle porte del paese l'arrivo dei Saraceni. Questi ultimi, arrivando, furono subito fermati e impauriti dalla presenza della Donna e ripiegarono così verso il mare. Il loro comandante, riconosciuta la Sagra Vergine, si convertì così al cristianesimo. Da quel momento la Madonna di Costantinopoli è anche conosciuta come la Madonna del Turco. Verso le serre di Montevergine, a circa 6 chilometri di distanza da Torcito, vi è il borgo di Anfiano. Ciò che si trova oggi è un insieme di ruderi situato in aperta campagna molto lontano rispetto al centro del paese. Più che un insediamento masserizio, Anfiano fu un casale medievale, la cui storia si perde nella notte dei tempi. Anfiano, pur essendo sorto nei pressi della via Calabra, era una realtà a sé stante rispetto agli altri borghi. Il suo nome, di chiara derivazione greca, significava proprio isolato. Furono i romani a sfruttare per primi queste floride terre, ma fu grazie ai basiliani che il borgo assunse una rinnovata centralità, grazie anche alla fertilità del territorio circostante. Loro, infatti, trasformarono questi terreni, prevalentemente occupati da boschi di querce, in oliveti. Con l'arrivo dei turchi, che saccheggiarono buona parte del territorio circostante, Anfiano venne abbandonato, divenendo per molto tempo un luogo disabitato. Parte della colpa della distruzione del borgo è da attribuirsi a tutti quegli improvvisati e ignoti cercatori di tesori che nel corso del tempo scavarono e saccheggiarono qua e là, nella speranza di trovare quel che qui in Salento viene chiamato Acchiatura, ossia il tesoro. Due importanti menhir si trovavano nei pressi del vicino borgo di Anfiano, tanto che hanno assunto lo stesso nome. Dei due menhir, Anfiano 1 e Anfiano 2, purtroppo ne rimane solo parte del secondo. Il Salento è un luogo misteriosamente ribollente di dolmen e menhir, ed è quindi uno dei luoghi con la più alta concentrazione di tesori megalitici millenari, ovvero di testimonianze megalitiche di interesse mondiale. La presenza antica dell'uomo nei pressi del territorio di Cannule è testimoniata da queste maestose presenze, o meglio, da quel che oggi ne rimane. All'interno di Feudo Cerceto, a poche centinaia di metri da cannule, si può raggiungere la masseria torsione, percorrendo via Calabra, un prolungamento della via Appia, costruita nel 312 a.C. da Claudio Appio Cieco. L'antica strada partiva da Roma e attraversava Capua, Benevento, per raggiungere Taranto e Brindisi. La via Appia, e con essa la via Calabra, vennero realizzate per aprire la strada verso la Magna Grecia, nel contesto delle guerre sannitiche. Masseria Torcito, nel XVII secolo, venne ricostruita dopo essere stata quasi totalmente rasa al suolo dai Saraceni. Essa è collocata nel Feudo di Cerceto, il cui imboschimento fu opera dell'amministrazione provinciale nel 1970, la quale volle salvaguardarne la macchia mediterranea e tutte le specie autoctone. Questa operazione permise quindi di salvare e conservare adeguatamente il territorio e la sua specificità. Il complesso masserizio di Torcito ha un'architettura visibilmente molto antica, anche se risulta ben conservata nel tempo. La struttura, nel suo primo nucleo originario, risale al XIII secolo. Subì poi un serio e complesso processo di ristrutturazione, conclusosi nel marzo del 2002, tanto da divenire oggi un luogo di attrazione turistica di Cannole, nonché splendida location per eventi musicali e culturali di ogni genere. Nel 1274, Carlo I d'Angiò concesse il Feudo di Cerceto e l'annessa Masseria Torcito alla potente famiglia Castro Mediano, per poi passare a varie famiglie di spicco del territorio, come i baroni Lubelli di Serrano. Il complesso masserizio di Torcito è composto, oltre che dalla masseria stessa, anche da una piccola cappella dedicata a San Vito. Vi è poi una cripta bizantina, nonché, sparsi qua e là, i ruderi di una necropoli medioevale, anch'essa presumibilmente di origine bizantina. A pochi metri dalla masseria, vi è una grande torre colombaia, perfettamente conservata, sia esternamente che internamente, la quale può ospitare comodamente più di 3000 volatili. L'antico frantoio ipogeo, annesso al complesso di Torcito, rappresenta una delle diverse attività di produzione alimentare che si svolgevano nella masseria. Nel suo unico ambiente sono ancora presenti i ruderi della vasca per la molitura, con i resti degli alloggi dei basamenti di due diversi tipi di torchi, uno detto alla calabrese, l'altro alla genovese. A presto, a presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.